Vuoi diventare un artist super hero, but you start from zero? Andrà tutto bene, perché con questo video potrai provare a ridisegnare i personaggi che sto per proporti. Ovviamente nel video sto disegnando velocissima perché il mio quirk è il draw for all turbo esplosivo. No, non è vero, in realtà il video è velocizzato, ma tu puoi stopparlo e riprendere a disegnare quando sei pronto o pronta. Per oggi abbiamo Midoriya, Uraraka, Shoto Todoroki, Kaminari, Kyoka Jiro, All Might e Momo. Alla fine del video invece trovi come disegnare gli occhi degli studenti della classe prima A, perché diciamocelo, a tutti piace disegnare gli occhi. Quando li avrai finiti mi raccomando farli orgogliosamente vedere a tutti e anche a me se ti va. Io sto usando il mio amato Procreate sul mio iPad, ma va benissimo carta e matita, carta o penna, inizia dove sei con quello che hai. Se sei arrivato qui sul mio canale perché hai visto i miei ultimi shorts, saprai che ultimamente sto ridisegnando pagine intere dal manga Boku no Hero sul mio sketchbook, perché mi sono imposta una challenge questo mese. Voglio riempire il mio sketchbook di Redraw Wings, in particolare di Boku no Hero, eccetto in realtà due pagine in cui ho disegnato Pokémon. Ma va bene lo stesso, perché se ci pensate anche i Pokémon hanno in comune con My Hero Academia il concetto che se ti impegni vincerai. Il mio episodio preferito, e ti lo so sono vecchia, era proprio quello che si intitolava Impegnati e vincerai nella prima serie. E questo concetto va benissimo anche per noi artisti o amanti del disegno in generale. Se non hai ancora visto i miei shorts, magari dopo buttaci un occhio e se ti piacciono considera di iscriverti al canale. Sarei felice come questa signorina di disegnare ancora insieme. Inoltre se ti interessa presto farò un gigantesco plus ultra sketchbook tour in cui ti mostrerò tutte le fanarts di Boku no Hero che ho realizzato finora. In ogni caso, un altro motivo per cui ho scelto di ridisegnare proprio le tavole di Boku no Hero, a parte che mi piace moltissimo e ne avevo voglia, è che considero Oricoshi un grandissimo maestro contemporaneo. Se provi a ridisegnare le sue tavole, anche nel tuo stile e come sto facendo io, ti accorgerai di quanto dettagliato e ricco sia il suo tratto e che enorme varietà di caratterizzazione dei personaggi e di inquadrature offra. Nessun personaggio è simile all'altro, si passa dall'esile ed è maciato al grosso e muscoloso, dalla bambinetta fragile al ragazzo impertinente. Il carattere nei character design spesso si riflette sull'aspetto fisico e sulle forme utilizzate nella costruzione del corpo e delle sue proporzioni. Quando ero piccola io, nei lontani primi anni 2000, le insegnanti di educazione artistica non potevano nemmeno sentir parlare di manga e anime. Vigeva lo stereotipo per cui tutti i personaggi sono uguali, con la testa grossa e gli occhi giganti e strani, e ti vietavano di disegnare in questo stile. Bene, Orikoshi dà personalità e singolarità, è il caso di dirlo, a ognuno dei suoi infiniti personaggi, altro che tutti uguali. Qui tra l'altro stiamo disegnando Todoroki per cui ho particolarmente un debole. Inoltre potrai notare come si passi da scene semplici, situazioni tranquille ma mai banali, a scene di lotte incredibili e inquadrature super complesse. Non nego che nel mio famosissimo sketchbook che vi mostrerò presto mi sono divertita tantissimo con le seconde, soprattutto a disegnare Bakugo. Inoltre quello sketchbook tour sarà l'occasione di farvi vedere nel dettaglio tutto quello che ho imparato. Tu intanto continua a disegnare e metterli in pausa a questo video che non vedo l'ora di vedere i tuoi risultati. In ogni caso, per quanto riguarda i personaggi che ti ho proposto in questo video, li ho scelti perché hanno espressioni super interessanti, sempre in contrasto con la critica delle vecchie insegnanti di educazione artistica. C'è Midoriya con uno sguardo poco convinto, Uraraka col suo sorriso sgargiante, Shoto visto leggermente dal basso o comunque che guarda di sottecchi, Momo che grida come una forse nata con i suoi outfits da capogiro, Kyokajiro che fa rima con capogiro, che sicuramente sta cantando una canzone di Avril Lavigne, la mia cantante preferita da Proud Millennial. E il quirk di Avril è non invecchiare mai. Comunque sia, nessuno di loro guarda dritto con un'espressione banale o con uno sguardo emblematico appunto inespressivo. E credo che l'errore più diffuso tra gli artisti super hero principianti sia proprio quello di disegnare semplici facce frontali che guardano dritto, inespressive e prive di vita. Ma noi dobbiamo andare oltre. Lo stesso decisamente vale per le pose. Un personaggio frontale, con le braccia penzoloni lungo il corpo, statico come una marionetta. Non solo la tua vecchia prof di educazione artistica, ma non piace a nessuno. Molto meglio sarebbe una pose di tre quarti, magari impegnata a svolgere qualche azione particolare come telefonare, cantare, cucinare, disegnare, salutare, eccetera, eccetera. Plus ultra, in movimento. Nonostante un tempo anche io preferissi rimanere comoda nella mia comfort zone, ultimamente le scene di lotte e azione sono decisamente le mie preferite. Sono super divertenti, vedrete. Quindi continuate a mettere in pausa, disegnare ed esercitarvi perché non vedo l'ora di passare alle scene di lotte e azione che magari vedremo presto in un prossimo video. Che dite? Intanto proseguiamo a disegnare il nostro camminari, di cui mi piace tantissimo come le linee zigzag che andranno a definire la sua capigliatura richiamino la forma di un fulmine, suggerendoci appunto quale sia il suo quirk. Lo stesso gioco dato dalle linee e le forme lo vedremo poi in All Might che è probabilmente il mio personaggio preferito. La struttura del suo corpo è tutta definita da solidi, squadrata, a sottolineare la sua prestanza fisica, forza, solidità e appunto eroicità. E adesso c'è qui lui. Per realizzare questo disegno di All Might ho usato il tool dell'assimmetria su Procreate ma se vuoi esercitarti di più puoi essere meno pigro di me e disegnare le due metà perfettamente identiche, mi raccomando. Scherzo. L'assimmetria è un tool in realtà molto usato anche dai professionisti ma se disegni ad esempio in tradizionale puoi disegnare le due metà e prenderlo come un ulteriore esercizio. Dicono che gli occhi siano lo specchio dell'anima e questo vale anche per un eroe. Per ogni personaggio forma e dimensione variano sempre a seconda del carattere di ciascuno. Occhi grandi e tondi sono proprio di personaggi positivi e un po' ingenui se vogliamo come Oraraka o Midoriya. Personaggi adulti avranno occhi più piccoli e meno sberluccicanti di fiducia nel futuro. I villains avranno occhi più sottili, squadrati o mezzi chiusi come Toya Todoroki. Tuttavia in questo video vediamo insieme soltanto gli occhi degli studenti della classe prima A che mi sembrano già abbastanza numerosi. Appena sarei riuscito a ridisegnarli tutti mi raccomando fammi vedere il risultato. Io ti aspetto nel prossimo video in cui ti farò finalmente vedere lo sketchbook di cui ti ho tanto parlato e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale per non perdertelo. Fammi sapere nei commenti se sei riuscito a disegnare tutti i personaggi e tutti gli occhi che ti ho proposto oggi e se questo video ti è stato utile fammi sapere sempre nei commenti. A presto! Grazie! Grazie!